Il Prato è un cantiere aperto. La squadra di Simone Sette Soldi mostra i muscoli per 70 minuti, poi cala vistosamente e consente la rimonta al Real Forte Querceta. La partita termina sul risultato di 1 a 1. Simone Sette Soldi per 70 minuti, un bel Prato, poi nel finale vi è mancata l'energia. Sì, è normale, i ragazzi sono arrivati i chieri, l'altro è ancora a corte preparazione, quindi prima di diventare una squadra credo ci voglia ancora un mesetto. Mi dispiace perché comunque abbiamo creato tanto, la partita l'abbiamo fatta bene e purtroppo poi quando non le chiudi ci sta che ti venga una disattenzione forse l'unica della partita e ci hanno pareggiato e quindi secondo me si è buttato via due punti. Al campo sportivo Adonelli di Montemurlo il primo guizzo è griffato dal Prato. Tomi su punizione impegna severamente Puccini che riesce a deviare. Episodio dubbio al settimo, Piroli lancia per Moreo che mette in rete di giustezza ma l'arbitro annulla per fuorigioco, proteste, laniere. Il real forte Querceta è messo alle corde dal Prato che al trentesmo passa in vantaggio. Rozzi per Moreo che segna la prima rete stagionale bianco-azzurra, 1-0 per il Prato. La formazione laniera potrebbe raddoppiare al trentaseiesmo, contropiede con Moreo che costringe Puccini alla deviazione per salvare la sua porta. Noi siamo ancora una squadra abbastanza nella ricerca di un'identità che non riusciamo a trovare. Siamo ancora un po' malaticci. Dobbiamo lavorare molto sia sulla fase difensiva che anche sulla fase conclusiva dove non siamo cattivi per vincere le partite. Bisogna essere un attimino più cattivi anche proprio nella ricerca della porta. Nella ripresa il Prato comincia subito. Tamburo battente. Qua sì si divora la rete del raddoppio mentre Rozzi riscalda i guantoni a Puccini. Con il passare dei minuti il real forte Querceta alza i giri del motore. Falchini prima mette fuori in girata, successivamente trova sulla propria strada il riflesso di Reggiani. Il Prato si difende e al ventisettesmo deve arrendersi al gol in mischia di Anichini che riporta la partita in parità. La squadra di Simone, sette soldi con le energie rimaste, prova il forcing finale. Bazzoffia, arrivato dell'ultima ora, fallisce da buona posizione mentre al 43esmo è Piroli a mancare il tocco vincente sugli sviluppi di un calcio di punizione. L'ultima emozione durante il tempo di recupero. Tomi per Carli. La conclusione del giocatore Laniero viene rinviata sulla riga di porta da Scaramelli. Finisce 1-1. Il Prato mostra segnali incoraggianti di crescita e intanto azzera la penalizzazione in classifica. Grazie. 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 Grazie.